a partinico abusivismo edilizio una donna denunciata dai carabinieri pronti esplosivo e telecomando massima allerta per Di Matteo un confidente avrebbe rivelato che i boss stanno preparando un attentato nei confronti del PM della DDA di Palermo. Pub, Ville e BMW operazione Alexander sequestrati beni per 40 milioni appendice della max retata di due settimane fa che ha zerato il mandamento di porta nuova. Un gruppo di volontari al lavoro in un bene confiscato alla mafia a partinico, una stretta sinergia con l'associazione Liberamente. L'ASP di Palermo ha disposto il trasferimento della Guardia Medica di Monreale dai locali idoni di Piazza Inghilleri a quelli non idoni di via Garibaldi, a dichiararlo il consigliere del PD, Lobbiondo. I carabinieri del comando della compagnia di partinico hanno deferito in stato di libertà per violazione di norme dili un'impiegata di 44 anni residenti a partinico. A seguito di un sopralluogo eseguito unitamente a personale dell'ufficio tecnico del comune di partinico, i militari hanno accertato che la donna stava realizzando in totale assenza di concessione edilizia dei lavori di ampliamento di un preesistente immobile ubicato in contrada Turrisi. I lavori abusivi avrebbero comportato un aumento di volumetria pari a circa 300 metri cubi. Pertanto l'immobile, ancora in fase di realizzazione, è stato posto sotto il vincolo del sequestro amministrativo. Intanto i carabinieri di partinico proseguono i servizi finalizzati a contrastare il dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio. Al Palazzo di Giustizia sono arrivate le teste di cuoio. I carabinieri del gruppo di intervento speciale da qualche giorno hanno una missione molto particolare, proteggere il sostituto procuratore Nino Di Matteo, uno dei protagonisti dell'indagine sulla trattativa Stato-mafia. Una missione delicata perché all'inizio di luglio un confidente ha svelato alla squadra mobile di Palermo che cosa nostra starebbe preparando un attentato nei confronti del magistrato. Il confidente ha parlato di una riunione fra capi mafia di città e alcuni paesani, in cui qualcuno avrebbe addirittura sollecitato l'esecuzione dell'attentato. In quell'incontro, ha aggiunto il confidente, si è anche detto che l'esplosivo è già arrivato. Tre fonti investigative e giudiziarie hanno confermato che il confidente non è un mafioso, ma nel passato ha fornito sempre notizie attendibili sul traffico di armi e di droga. Per questa ragione, il primo luglio, la Polizia ha subito girato la segnalazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. E da Palermo una nota riservata è partita anche per l'ufficio centrale scorte, organismo istituito presso il Ministero dell'Interno. La decisione è arrivata nel giro di poche ore. Il livello di protezione per Di Matteo è salito dal secondo al primo, ovvero al massimo. In Italia sono solo una ventina le personalità che hanno questa scorta. Così adesso Di Matteo viaggia protetto dentro un corteo composto da tre auto blindate, in cui ci sono nove carabinieri. Sotto l'abitazione del magistrato c'è invece una vigilanza fissa. Altri carabinieri si occupano di bonificare le strade e i luoghi più frequentati dal PM. Al Palazzo di Giustizia la tensione è altissima e non solo attorno a Di Matteo. Due settimane fa c'è stata una strana irruzione nell'abitazione di un altro dei magistrati del pullo trattativa, e cioè Roberto Tartaglia. In pieno giorno qualcuno ha rovistato fra armadi e cassetti e ha portato via solo una pendrive. Così l'allerta è scattata anche attorno a Tartaglia e altri pubblici ministeri che indagano sui misteri del 92-93. Il sostituto Francesco Del Bene e il procuratore aggiunto Vittorio Teresi. In parallelo al processo trattativa in corso in corta d'assise c'è infatti un fascicolo d'inchiesta bis che sta cercando di accertare eventuali responsabilità di ambienti deviati dai servizi segreti. Ad aprile era già arrivata una lettera anonima che parlava della preparazione di un attentato nei confronti di Nino Di Matteo. Autorizzato, così era scritto, dalla superlatitante Matteo Messina Denaro e da alcuni suoi amici romani. L'anonimo scriveva pure di alcune prove di esplosivo fatte in provincia di Trapani. Ma non sono soltanto le lettere anonime e le segnalazioni di qualche confidente a preoccupare. Le indagini su Cosa Nostra Palermitano parlano di giovani boss irrampanti con la pistola alla cintola, cresciuti col mito di Messina Denaro, il boss condannato per le stragi del 1993 che a giugno ha festeggiato vent'anni di latitanza. Giovani boss in cerca di visibilità anche con gesti eclatanti. Questo dicono le micro spie che tengono sotto controllo il ventre criminale di Palermo. Un gruppo di ragazzi volontari collabora con l'associazione Liberamente, sta raccogliendo Limoni in un non terreno confiscato alla mafia. Sì, noi partecipiamo insieme a altre cooperative d'Italia a questo grande progetto che si chiama Campi di volontariato e formazione nei beni confiscati alla mafia. È un progetto che è già diverse edizioni. Noi siamo uno dei 33 campi in tutta Italia che ospitano gruppi organizzati che possono essere scuole, associazioni, cooperative o anche parrocchie e scout, gruppi scout, che partecipano attivamente ad un progetto che prevede la mattina lavoro nei campi. Oggi praticamente avevamo un gruppo del Friuli Berezia Giulia della provincia di Bergamo, due gruppi italiani che stanno lavorando attivamente nel terreno di Bosco Falconeri a Partinico per togliere tutte le erbacce perché noi siamo in biologico e quindi non possiamo utilizzare diserbanti, quindi a mano tolgono tutte le erbacce per dare un po' di, non un po', un grande sostegno alle cooperative, in principalmente noi che produciamo poi dal limone e anche il limoncello e la marmellata di limone. Questo credo che sia l'esempio positivo di quello che una cooperativa può fare su beni confiscati dalla mafia per due ordini di motivi, perché per avere avuto assegnato con gara di evidenza pubblica un bene assegnato alla mafia è perché questo bene è stato sottratto dalle persone malavitose che rovinavano l'immagine del paese di Partinico. Il fatto che ci sia oggi una produzione di prodotti, scusate anche il visticcio di parole, che venga realizzato dalla cooperativa anche in collaborazione e integrato con stage e formazione con dei ragazzi, significa che c'è una corretta gestione del bene che non è soltanto l'acquisizione fine a se stessa, ma è anche quello che viene dopo, che è la produzione nel mercato di elementi che rappresentano un marchio di Partinico, sia nel territorio regionale ma anche nel territorio nazionale. E allora che ben vengano queste iniziative, perché credo che il comune e l'ente comune debba in questo caso attivare una serie di procedimenti e questo l'intendimento di questa amministrazione tramite un atto di indirizzo che avverrà votato tra qualche giorno in giunta, quello di far veicolare tutto ciò che deriva dalla gestione dei beni confiscati dalla mafia, quindi prodotti agroalimentari, prodotti enogastronomici, anche quello che sono le attività teatrali o prodotte di attività artistiche che sono realizzati da alcune cooperative e di mettere le rete sotto un unico marchio, che è un marchio del comune di Partinico sotto forma consortile, che ricada nel comune di Partinico, perché è per noi anche sbagliato vedere che la marmellata, ad esempio prodotta nel terreno confiscato dalla mafia del comune di Partinico e che viene messa in commercio ad esempio a Genova, a Milano, come prodotto e consumo critico, venga veicolata da società che praticamente ho associazioni rinomate, importanti, ma che hanno sede legate al di fuori del comune di Partinico, magari in territori dove il numero e il quantitativo di beni confiscati dalla mafia è nettamente inferiore rispetto a quello di Partinico. Questo è l'intendimento dell'amministrazione, quello di far creare un consorzio in modo tale da creare un marchio. Cosa dire del bene di Contrada Albacchiaro, Assessore? Ma io ne approfitto anche per rispondere alle critiche di rifondazione comunista. Io credo che le critiche di rifondazione comunista debbano essere costruttive e non strumentali. Innanzitutto mi domando come mai rifondazione comunista ponga sempre e comunque l'attenzione su un bene, quello di Contrada Albacchiaro, che tra l'altro la settimana scorsa dopo questa notizia è già stato firmato il contratto con la ditta che andrà ad eseguire i lavori di ristrutturazione di quel bene e la creazione di un teatro, se estate all'aperto, in Contrada Albacchiaro con un finanziamento di circa 200.000 euro ottenuto con il PON Legal Art. E quindi c'è già un bene che ha ottenuto un finanziamento, fra poco partiranno i lavori perché già la ditta che si è giudicato alla gara ha firmato il contratto e poniamo l'attenzione su questo bene quando c'è una miriade di bene che sono praticamente sparsi nel territorio e allora se rifondazione comunista vuole fare una cosa gradita non all'amministrazione ma la cittadinanza aiuti l'amministrazione in questa opera di verifica che è doveroso fare e che è giusto fare e che io sto intraprendendo da due settimane avendo avuto questa carica aiuti l'amministrazione comunale a fare un'operazione a 360 gradi, ad andare a porre l'attenzione su tutti quei beni confiscati, se ci sono, che vengono utilizzati e non producono e allora perché poi diventerebbe solo strumentale. Quindi in riferimento anche alle critiche di rifondazione comunista devo dire che questo bene già ha ottenuto un finanziamento, già siamo in fase di lavori, quindi di inizio lavori e quindi credo che proprio non ci sia nulla da discutere. L'ASP di Palermo ha disposto il trasferimento del servizio della Guardia Medica di Monreale già operativo da venerdì 19 luglio dai locali idoni di Piazza Inghilleri a quelli non idoni di Via Garibaldi. Nella nota è stata comunicata l'avvenuta risoluzione delle problematiche relative alla non idonietà dei locali e all'assenza di un ambiente di stoccaggio per i rifiuti speciali, dichiara il consigliere Lobbiondo del PD. Ma venerdì stesso ho fatto un sopralluogo e ho constatato che quei locali non sono ancora invece idonei e me ne sono reso conto ancora maggiormente quando venerdì ho letto nel viso di alcuni utenti tutto il loro disagio di fronte a quello stato dei locali. Ho constatato, continua il consigliere di Monreale, personalmente che i locali igienici non rispondono pienamente alle esigenze dell'utenza e del personale tutto, che non esiste inoltre la possibilità di stoccare in sicurezza i rifiuti speciali. Inoltre sia per gli utenti che per gli operatori non esiste alcuna possibilità di parcheggiare agevolmente. Nel 2008 ben 650 cittadini hanno già sottoscritto una petizione in cui hanno manifestato la contrarietà al trasferimento della Guardia Medica da Piazza Ignazio Florio a Via Garisbaldi. Tutto per le stesse ragioni oggi contestate. Quella petizione, scrive ancora il consigliere Lobbiondo, è stata sostenuta anche dal presidente dell'Associazione Invalidi Civili in ragione della inaccessibilità dei locali alle persone diversamente abili. La petizione era stata inviata al prefetto di Palermo, al presidente della regione, al sindaco di Monreale e al direttore delle curie primarie ASP 6. Grazie anche a quella il trasferimento allora fu fermato, ma ora con quella nota l'ASP dispone ancora una volta il trasferimento degli uffici nonostante i problemi legati all'accessibilità del servizio e alla non idoneità nei locali. Auspico, conclude il consigliere, che vi possa essere una collaborazione per trovare una soluzione utile e funzionale a tutti, soprattutto per garantire un livello sanitario qualitativamente adeguato e soprattutto per non penalizzare ulteriormente i cittadini. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia, dopo aver dato esecuzione lo scorso 3 luglio a 26 fermi del pubblico ministero nei confronti di capi e gregari del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova e di affiliati a mandamenti di Braccaccio e Mazzara del Vallo, nonché alla Camorra, hanno proceduto al sequestro di diversi beni riconducibili alla mafia. L'acquisizione e raccolte in particolare hanno permesso di accertare gran parte degli illeciti profitti di Cosa Nostra, sia stata investita in beni mobili e immobili intestati a pressanome compiacenti. Ne è derivata l'emissione di provvedimenti di sequestri preventivi, aventi ad oggetto un cospicuo patrimonio nel cui ambito figura, l'azienda di macellazione e vendita di carne all'ingrosso, il pub denominato Digest, la società denominata Trioil SRL e oltre 200 mila euro fra assegni e contanti. I beni, il cui valore complessivo supera i 40 milioni di euro, così come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati affidati per l'amministrazione giudiziaria. Castellammare del Goffo a grandi passi verso la realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque e refle del paese, che sorgerà in una caverna alle radici del molo foraneo con relative emissari e condotta sottomarina. In questi giorni il Comune sta infatti completando le procedure propedeutiche all'avvio dei lavori per un ammontare di 18 milioni di euro stanziati attraverso il Cipe. Sono stati affidati dal Comune i servizi di ingegneria ed architettura al Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Aerospaziale di Palermo, che ha offerto un ribasso del 4,76% su un importo di circa 40 mila euro. Un lavoro che servirà essenzialmente a mettere a punto la posa in opera della condotta sottomarina a regola d'arte. Una volta completata questa procedura potranno essere appaltati i lavori per la realizzazione della grande opera pubblica che porrebbe fine ad uno dei più grandi paradossi siciliani sul piano turistico. Infatti attualmente Castellammare del Golfo non è dotato di alcun impianto di depurazione e i liquami vengono versati in mare tramite una inefficiente condotta sottomarina. Il vecchio depuratore costruito negli anni 70 in Gondrada Cerri fu immediatamente disattivato con appena entrato in funzione. Proprio per questo problema infrastrutturale la cittadina del Golfo è stata più volte bocciata sul piano ambientale nonostante sia una delle più belle aree costiere della Sicilia per la presenza di Scopello e della riserva dello Zingaro. Più volte coletta verde la storica imbarcazione di lega ambiente che verifica le condizioni di salubrità del mare ha tirato le orecchie alle istituzioni castellammarese perché dai rilevamenti è emerso che nell'area attorno a dove si scaricano i refri si registra una delle peggiori situazioni. Addirittura coliformi fecali hanno superato di sette volte gli standard. Per la cittadina castellammarese questo sarebbe un traguardo storico poiché consentirebbe di risolvere il problema fognario e porre fine all'emergenza ambientale causa della procedura di infrazione comunitaria a cui rientra proprio la cittadina per il suo depuratore mai entrato in funzione. Il sole caldo e il cielo nitido di piena estate al Saracen Hotel avrebbe potuto fare da sfondo a una tragedia che poteva segnare la vita di due genitori. Il loro bimbo di otto anni stava per morire davanti ai loro occhi ma per fortuna un altro piccolo villeggiante si è accorto di cosa stava succedendo e ha lanciato l'allarme. C'è un bambino che sta male, è in acqua, sta male, ha urlato sfilandosi gli occhialini che aveva usato per immergersi. Il piccolo di dieci anni si trovò a bordo della piscina per gli adulti quando all'improvviso ha notato un coetaneo a galla in paccia sotto. Non ci ha pensato un attimo e si è tuffato. Doveva capire cosa stesse accadendo. È andato sott'acqua per guardare in faccia il bambino che aveva gli occhi sbarrati e la bocca aperta. Non c'era tempo nemmeno per spaventarsi. Quel bimbo stava morendo per annegamento. Due bracciate subito vicino ai propri genitori a cui ha chiesto immediatamente aiuto. Momenti di panico nell'area vicino alla piscina Isola delle Femmine dove il medico in servizio all'hotel e il suo infermiere si sono fatti strada per soccorrere il piccolo, nel frattempo portato fuori dalla piscina. Il bambino era già in condizioni disperate dice la dottoressa Marina Iovino. Abbiamo praticato immediatamente un massaggio cardiaco insieme alla respirazione artificiale. Ha quindi buttato fuori un po' d'acqua, una piccola parte di tutto quello che aveva bevuto al punto da portare il suo corpicino a galla. L'ho perso di vista un momento dice il padre del bambino. In pochi secondi si era già allontanato. L'ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. All'uomo a tre giorni dall'incidente trema ancora la voce. Riesco a parlare soltanto perché mio figlio adesso sta bene ma sono state ore strazianti in cui ho temuto di perderlo per sempre. Dopo il primo e fondamentale soccorso che ha strappato alla morte il bimbo infatti, l'intervento dei sanitari del 118 e quello dei medici dell'ospedale Cervello di Palermo hanno fatto il resto. Dopo la rianimazione prosegue la dottoressa Iovino è stato trasportato al pronto soccorso dove ha rigettato almeno altri due litri di acqua, una quantità che nel corpo di un bambino avrebbe potuto spegnere ogni speranza. Siamo felici di averlo tratto in salvo, aggiunge. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Palermo traendo in arresto per reiterate evasioni il pregiudicato Antonino Salute, palermitano di 57 anni. I militari dell'arma avevano notato il Salute già sottoposto alla misura della detenzione domiciliari per reati di furto a girarsi a piedi nelle immediate adiacenze della propria abitazione senza giustificato motivo. Così dopo averlo arrestato nella fragranza di reato sottopossa al rito, dopo aver patteggiato la pena a otto mesi di reclusione, il GIP ha disposto nuovamente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nella stessa giornata di ieri il Salute è stato associato presso la locale casa circondariale Ucciardone. È successo a Palermo quando l'equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile ha notato una donna per strada che orlava chiedendo aiuto. Scesi dal mezzo per prestare subito soccorso, i carabinieri hanno immediatamente ricostruito la dinamica dei fatti. Pochi attimi prima, la donna, una 42enne originaria del Bangladesh, mentre attraversava via Maqueda insieme al proprio figlio trasportato all'interno di un passeggino, è stata investita da un uomo alla guida di uno scooter che si è fermato per prestare i soccorsi, identificato dai militari. A seguito dell'impatto, il piccolo di poco meno di un anno di età riportava delle evidenti escoriazioni al volto. Data l'urgenza della situazione, la necessità di un intervento immediato e considerato l'intenso traffico, i carabinieri intervenuti decidevano di scortare madre e figlia sull'autovettura di servizio. Il piccolo visitato presso il nosocomio è stato riscontrato affetto da un politrauma da sinistro stradale e si trova tuttora in osservazione e non versa però in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'infortunistica stradale della locale polizia municipale, che ha eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Avrebbe ammesso di aver fatto del sesso a pagamento una volta sola, negando però di essere a conoscenza del fatto che il partner fosse minorenne. Una missione di colpa a metà, quella di Donaldo Nuvola, il sacerdote arrestato, per induzione alla prostituzione. Intanto il GIP ha convalidato il provvedimento di fermo, riservandosi sulla misura cautelare da adottare. Nuvola, davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre, per oltre tre ore, ha risposto alle domande del PM Geri Ferrara, assistito dagli avvocati Mario Zito e Marcello Montalbano. Le intercettazioni che provano diversi incontri con ragazzini che gravitano nel mondo della prostituzione gay sono inequivocabili. Padre Aldo, come veniva chiamato, però avrebbe confermato un solo episodio, ma affermando di ignorare l'età del giovane, anzi, secondo quanto raccontato al PM, sarebbero stati giovani a circuire lui. I minori, lo avrebbero indotto a fare sesso. Lui voleva solo vedere fino a che punto si sarebbero spinti, per questo dava loro corda, oltre a volerli aiutare avendo problemi economici. Il sacerdote avrebbe ammesso di conoscere il diciassettenne fermato per l'omicidio dell'imprenditore Massimo Pandolfo, ma di non ricordare che questi gli abbia telefonato dopo il delitto. Ha decisamente smentito di aver raccolto le confessioni dell'assassino. Ho sbagliato, ha detto il prete agli inquirenti, me ne sarei dovuto andare da Palermo, dopo la prima inchiesta. Dovevo ascoltare chi mi aveva detto di andare fuori. Dopo quello che è successo, mi sentivo solo e andavo in giro di notte per avere un po' di compagnia, un po' d'affetto. E' stati a partinico, Assessore, quali sono i progetti in itinere? Allora, noi abbiamo già cominciato a stirare un programma che verrà strutturato in diverse manifestazioni che si terranno dal 4 agosto al 7 settembre, che sarà sabato, notte in cui ci sarà la notte bianca. All'interno di queste manifestazioni uno spazio sarà ritagliato anche alle associazioni antimafia, mediante un'esposizione di prodotti agroalimentari che vengono coltivati nelle terre dei beni confiscati alla mafia. Diversi spettacoli verranno fatti, adesso stiamo stilando nello specifico le date. Comunque già c'è un programma abbastanza corposo, è un programma che abbraccia diversi settori e fondamentalmente alla portata di tutti, quindi ci stiamo adoperando in tal senso per coinvolgere un po' tutta la cittadinanza. Anche i giovani saranno coinvolti? Sì, sì, senza dubbio, stiamo vedendo di organizzare delle attività sportive, ludico-ricreative, sempre all'interno dell'estate partinicesa. E' arrivata la nostra redazione un comunicato a firma dei tre sindacati di categoria di Partinico come oggetto una richiesta di incontro inviata al sindaco di Partinico, nel quale si legge egregio signor sindaco, così come convenuto con le scriventi lo scorso 27 maggio in occasione dell'autoconvocazione del comitato dei disoccupati edili di Partinico presso il palazzo comunale, torniamo a sollecitare la signoria vostra per adoperarsi in tempi stretti per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, atto a favorire l'occupazione dei lavoratori idili nel nostro territorio comunale. Si rammenta che il predetto protocollo è già stato sottoscritto in diversi comuni della provincia, tra i quali figura anche il capoluogo. Si comunica che sabato 27 luglio a Cinisi, alle ore 19, lungo Corso Umberto, si svolgerà un corteo storico dal titolo Casali Chinisi et Tenimenta Frederici, sulle origini di Cinisi che vedrà il coinvolgimento di oltre 100 figuranti. L'iniziativa è promossa dal comune di Cinisi sotto la direzione artistica di Rosolino Cardile. Al culmine del corteo in piazza Orlando si svolgerà la rievocazione storica sulla proprietà del Feodo di Cinisi, dai re di Sicilia ai padri Benedettini. Grazie a tutti.